Per me è un piacere ricevere questo premio perché comunque è una soddisfazione, una piccola soddisfazione in questa annata che però voglio condividere con i miei compagni di squadra perché abbiamo fatto veramente un'annata strepitosa. Purtroppo abbiamo seminato tanto e raccolto poco perché in una settimana abbiamo perso due finali che ci sono costate Scudetto e Coppa Italia però niente cancella quello che abbiamo fatto veramente perché abbiamo fatto soprattutto appassionare decine e decine di tifosi e tutti tifavano per noi perché probabilmente avevamo veramente qualcosa di forte nel nostro gruppo però è andata così. Mi dispiace di finire così con una settimana un po' triste però dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Io ho fatto capitano anche a Verona però in essere la fascia in questa città a me personalmente ha dato tanto, ha fatto crescere molto perché comunque ti devi assumere certe responsabilità e è stato un orgoglio, un onore per me. Essere stata l'ultimo capitano di questa società probabilmente rimarrà una storia e sono contenta e abbiamo fatto veramente grandi cose perché in cinque anni è stata una società che ha vinto di più in Italia e questo non si deve dimenticare nessuno. Grazie per la visione!